Vai Maroni! Io non ho mai avuto dubbi, non ho mai temuto come qualcuno. Siamo scaramantici, Milano deve essere il cuore della ripartenza, siamo ancora indietro rispetto alla sinistra, vuol dire che dobbiamo lavorare tanto. Oggi però è una giornata di festa per tanta gente di Lombardia, ma non solo in Lombardia. Ho visto Friulani, Liguri, Piemontesi, Veneti, Romagnoli. Una bella giornata, un sole stupendo, bella musica, facce pulite, sorridenti, donne, uomini, un sacco di bambini e da domani si lavora. Tanta gente che crede nel progetto della Lega e nella macro regione, per questo sono venuti anche da fuori. Buona politica, la buona politica non può essere solo il vaffanculo, deve anche essere capace di costruire. Penso che qua in piazza ci sia tanta gente di buona volontà che voglia di costruire. L'ultima considerazione, il Presidente Maroni oggi si è rivolto anche a chi non l'ha eletto. Sì, a chi è dietro le finestre in queste bellissime piazze di Milano, non vota Lega perché non si fida, perché qui, perché là. Abbiamo cinque anni di tempo per dimostrare loro, anche in Veneto, in Piemonte e in Friuli, che cosa sappiamo fare e poi riconquistare il voto non sulle parole ma sui fatti.